Signore Gesù, davanti alla sindone come in uno specchio, contempliamo il mistero della Tua passione morte per noi. È l'amore più grande, con cui ci hai amati. Fino a dare la vita per l'ultimo peccatore. È l'amore più grande, che spinge anche noi a dare la vita per i nostri fratelli e sorelle. Nelle ferite del Tuo corpo martoriato, meditiamo le ferite causate da ogni peccato. Perdonaci Signore. Nel silenzio del Tuo volto umiliato, riconosciamo il volto sofferente di ogni uomo. Soccorrici Signore. Nella pace del Tuo corpo adagiato nel sepolcro, meditiamo il mistero della morte che attende la risurrezione. Ascoltaci Signore. Tu che sulla croce hai abbracciato tutti noi, e ci hai affidati come figli alla Vergine Maria, fa che nessuno si senta lontano dal Tuo amore. E in ogni volto possiamo riconoscere il Tuo volto, che ci invita ad amarci come Tu ci ami.